Carissimi amici, è arrivato per il Youtube e oggi torniamo su Granny3 Questa volta siamo con una mod dove nonni diventano degli zombie, degli zombie cattivi Mamma mia, quindi saranno ancora più cattivi verso di noi E quindi quindi ripartiamo subito, ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Se neanche che lasciate, sarà per il personaggio associato a voi, sarà Granny Zombie Se vuoi lasciare dispari, il personaggio associato a voi, sarà Grandpa Zombie Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva, così anche vi farete parte della Panino Family Ma adesso partiamo subito, cominciamo perché non vedo l'ora di affrontare di nuovo i nonni Questa volta sono diventati degli zombie, quindi dobbiamo fare molta attenzione, molta 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 attenzione Partiamo qua, lasciamo pure... ah no aspettate Questa mod è basata sulla vecchia versione di Granny, quindi qua Slendrina c'è a prescindere Non possiamo toglierla, quindi niente, ci becchiamo Slendrinella Vabbè, meglio così, così vediamo anche come è diventata Slendrina all'interno di questa mod E qua ci stiamo per avvicinare Verso la casa dei nonni, che ormai è stata zombificata Tutta quanta inverdolita in quel modo Ma cos'è, pure le case che diventano zombie adesso, no? Non è che basta soltanto che i personaggi diventano zombie No, pure la casa, zombificiamo pure la casa Tutto quanto Va bene, sì sì personaggio, ormai ti sei chiuso qua dentro Una volta che hai varcato il cancello di Granny Ti devi rassegnare Devi rassegnarti ad essere circondato da due nonni che... Ti vogliono bene, ma in un modo un po' troppo particolare Va in un modo alternativo, ecco È un affetto diverso Eppure il ponte che si alza, quindi niente Ormai sei rassegnato qua Ok, ci stiamo avvicinando Verso la casa, pure la macchina Tutto quanto inverdolito per essere zombificato Ok E devo dire che da un bel po' di tempo Che non portavo una mod zombie di Granny L'avevo portato un po' di tempo fa l'anno scorso Oh no 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 Grampa zombie Grampa zombie, ti prego Non farlo, non farlo E invece l'ha fatto, l'ha fatto E come? Grampa, non dovevi farlo E non dovevi farlo però Va bene Adesso siamo dentro la casa dei nonni Giorno 1 Pure la scritta verde abbiamo Pure la scritta zombificata A posto Ok, va bene Si parte Si comincia E ora siamo qua Dentro la casa zombie dei nonni Eccoci qua Voilà Buonasera Buonasera Mi ricordo che una volta portavo molto spesso le mod di Granny Però ecco, il fatto è questo Se ci sono delle mod interessanti Io le porto pure volentieri Quindi Preparatevi perché potrebbero tornare i video sulle mod di Granny Ma solo Se escono delle mod interessanti Se escono tipo mod che Non mi dicono niente Preferisco non portarle Ok Siamo qua Vediamo l'amichetto scheletrico Come è diventato C'è amichetto scheletrico Uuuuh Guardate l'amichetto scheletrico che cosa conserva Tiene con sé Il coso di legno La legna da ardere Questo ci può servire per poter accendere il camino Quindi lo prendiamo subito Ovviamente vi ricordo che nei video mod Non sempre andiamo a completare il gioco Perché alla fine lo scopo è quello di divertirci Con i nonni modificati dalle mod E per scoprire I segreti che si nascondono Ok apriamo quella porta Perfetto Apri qua Voilà C'è qualcuno E c'è grampa E c'è grampa Aiuto Via 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 Scappiamo 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 E ci manca grampa che è venuto direttamente qua però Grampa E ti prego però Ti prego E fammi muovere Un attimo che esco fuori a respirare un po' di aria pulita Tu subito vieni qua Che poi qua di aria pulita non è che c'è tanto Visto che siamo praticamente in un mondo di zombie Qua sicuramente l'aria che c'è ci sarà pure una puzza Io mi immagino qua dentro sta cantina Con un odoraccio veramente sgradevole da sentire Allora Grampa Sei ancora qua Posso uscire gentilmente? Con calma Facciamo con calma Senza farci vedere Ok Grampa non è più di qua Meno male Meno male Non è che forse è entrato di qua No Non è andato dall'amichetto scheletrico Devo dire una cosa È la prima volta che in questa mod Anzi che in una mod di Granny 3 L'amichetto scheletrico è stato modificato Perfetto Andiamo subito sopra Piano superiore Vediamo Spero di non trovare nessuno Così posso già mettere la legna da ardere Perfetto Non ce ne sono di qua Via Scappiamo 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 E dai però Eppure la nonna Guardate la nonna zombie Avete visto come la nonna zombie Scappiamo 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 E dai però E dai E fatemi girare un po' per questa casa Fatemi girare Ciao nonna Ciao Granny Tutto bene Tutto bene Lo sai che ti voglio tanto bene Anzi devo dire una cosa Che qua in modalità zombie Ti sta meglio La skin zombie Granny Ti sta veramente molto Oh me Dai però Slendrina E gira sta visuale Dai Insomma E mi ha fatto perdere tempo qua adesso Per poter aprire sta porta Allora Apri qua Niente Non posso usare il lockpick Ah ora me lo fa usare Perfetto Perfetto Apri 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 Ok Non c'è nessuno da queste parti Meno male Meno male Meno male Voglio soltanto portare sta legna Da ardere di sopra Me lo fate E vabbè Granny però E vabbè Ma mi stavi seguendo Mi stavi seguendo Posso salire gentilmente di sopra Ho diventato un'impresa Allora Mettiamoci qua Facciamo funzionare sto pulsante Perfetto Ok Saliamo così E a sto punto L'unico modo che mi viene da pensare È questo Di usare l'ascensore Quindi andiamo qua Mettiamo subito questo Ad ardere Perfetto Tanto grampa non è di qua Non lo vedo da queste parti Ma anche se fosse Lo posso praticamente trollare Andando nel piano inferiore Che piano inferiore Slendrina Slendrina Ok Metti qua la legna Adesso dobbiamo di nuovo Aspettare l'ascensore Perché vorrei salire Nel piano superiore A sto giro Lo faccio tramite l'ascensore Anzi No 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 Non usiamo l'ascensore Non usiamo l'ascensore Vediamo se riusciamo a prendere Direttamente le scale Per salire Apri qua C'è qualcuno C'è qualcuno Da queste parti Ok Lì c'è grampa C'è grampa Saliamo 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 Ed eccoci qua Siamo finalmente Sul soffitto Lì c'è grenni Però c'è grenni Sali 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 Che roba Guardate l'acqua E' grenne Ma quanto sei carina Grenne Quanto sei carina Ma che roba Ma che roba Vabbè io direi di salire A sto punto Vediamo il tetto Come è diventato Ah questa parte qua Della casa E' rimasta così E' rimasta uguale Vediamo da queste altre parti Invece Ah buono buono Vediamo il corvo 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 zombie No il corvo E' rimasto uguale E' rimasto uguale il corvo Non è stato modificato Beh almeno lui Si è salvato Non è diventato uno zombie No ci mancava soltanto Il corvo zombie Veramente eravamo a posto Anche perché il morso di un zombie Tecnicamente Zombifica pure noi Zombifica chi viene preso dal morso E essendo che questo qua Va a tirare le beccate Avrebbe zombificato anche il personaggio Va bene Chissà se in futuro faranno tipo Non so se vi ricordate quelle mod Dove noi potevamo diventare Grenni Ecco chissà se lo faranno anche qua Su Grenni 3 Sarebbe molto molto divertente Molto bello Questa è l'altra parte del tetto Vediamo qua Scendiamo qui sotto Voilà Buonasera Ed eccoci qua Eccoci qua Qui c'è la classica sedia di Angeline Qui da queste parti Vediamo che cosa c'è Non c'è niente Vabbò E niente Tecnicamente Bisognerebbe portare L'orso a chiotto di slendrina E portarlo qua Una culla vecchia Un old crib Che adesso non me la fa più selezionare Vabbè Non importa Non importa Non facevoci domande Non facevoci troppe domande Scendiamo qua Perfetto C'è qualcuno da queste parti Vediamo quali altri oggetti Riusciamo a trovare Va tanto qua Tecnicamente I nonni non dovrebbero prendermi Tecnicamente E poi in pratica Scopriamo che Mi prendono il come Qui c'è qualcosa Vuoto Vuoto Ok Fortunatamente Una cosa bella di questo gioco È che noi possiamo andare anche sotto il tavolo Questo può essere Un ottimo nascondiglio Un ottimo modo Per potersi difendere Dai nonni Ok Non c'è nessuno di qua Vediamo di qua Perfetto Dentro sta stanza Ok Chi è che mi ha visto Qualcuno mi ha visto Non so chi Prima ho sentito il verso Quello Vu Come se mi avessero visto Ma soprattutto da dove mi hanno visto Non sta venendo nessuno E nessuno sta venendo Chi è che mi ha visto Vabbè qui c'è gente che mi guarda a caso A caso mi vede da lontano E cerca di raggiungermi Così Senza neanche un puro motivo Senza neanche un motivo immaginario Vabbè io allora direi di uscire Vediamo quei cassetti Cosa nascondono Quindi Apri qua Vuoto È vuoto Cassetto vuoto Apri qua C'è qualcuno Da queste parti Qui dentro Vuoto Andiamo a vedere dentro il bagno Se c'è qualcosa Qui dentro Qui c'è qualcosa C'è lo sciacquone Posso tirare lo sciacquone Ma veramente Questo non lo sapevo L'ho scoperto ora in diretta Però Avendo tirato lo sciacquone Forse ho fatto rumore Quindi Meglio riposarsi due secondi No no Seriamente Questa cosa dello sciacquone L'ho scoperto adesso in diretta Con voi Non pensavo si potesse tirare Ma tanto non c'era niente Non c'è Boom Servisse a qualcosa Neanche un oggetto Mi ha droppato Vabbè sentite Io esco Tanto qua non viene nessuno In sto bagno Non c'è neanche una doccia Ma qui i nonni Veramente come fanno a lavarsi Con cosa si lavano Qui c'è un lavandino Giustamente Con il vetro rotto Perché qua solo Vetri rotti ci sono Ciao Granny Ciao Ciao niente Ciao niente Via 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 Ah Mamma mia Grampa però E non dovevi farlo Questo Ma per poco mi ha preso Per poco Perché io Fossi stato leggermente Un po' più avanti Sarei riuscito ad evitare il colpo Visto che c'era il muro Visto che c'era la curva Grampa non poteva prendere bene la mira E invece ce l'ha fatta e come A prendere bene sta mira Ce l'ha fatta e come No Grampino caro Non dovevi farlo Grampino Ma io ti voglio tanto bene Ti voglio veramente bene Tu non puoi trattare così Tuo nipotino Non puoi trattarlo così Ma io qui dentro ancora Non ci ho visto se c'è qualcosa Attualmente non c'è niente Vabbè E non importa Allora usciamo fuori da questa Cantina tutta quanta puzzolente C'è odore di zombie qui dentro C'è una puzza di zombie Meglio prendere l'aria pulita va Qui dentro c'è qualcosa tra l'altro Io qua non ci sono entrato E ho fatto bene a non entrarci Perché non c'era niente Direi di vedere un meglio la cucina va Così per curiosità Anzi no Sapete cosa dobbiamo vedere ancora bene Il coccodrillo Il coccodrillo ancora non l'abbiamo visto Dentro sto gioco Dentro questa mod Come sarà diventato il coccodrillo Cocodrillo caro Viene qua Viene da panino tuo Che ti vuole tanto bene Che ti vuole tanto bene Anche se in realtà non mi vuole bene Su vieni qua coccodrillo Vieni 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 Adesso verrà saltellando Ed eccolo qua il coccodrillo Oh che bello No il coccodrillo devo dire che è rimasto uguale Ma in tutte le mod che io ho provato Su Granny 3 Cocodrillo non è cambiato Questa però è la prima mod Dove vediamo l'amichetto scheletrico Che è stato modificato Che è stato cambiato Spettacolare Va bene dai Andiamo qui fuori Apriamo la porticina Che qua tanto ci chiudono sempre Ci chiudono sempre dentro sta casa Andiamo dall'amichetto scheletrico Quella porta è aperta Ah no È chiusa la porta dell'amichetto scheletrico E riapriamo qua la porta Su Amichetto scheletrico Sei libero Sei libero Puoi uscire adesso da questa casa Puoi uscire E Slendrinella Non mi ha preso Non mi ha preso Ah 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 Eccolo qua No no veramente È la prima volta che lo vedo modificato Di solito Gli amichetti scheletrici Nelle mod Sono sempre uguali Pure su Granny 1 Pure su Granny 1 C'è sempre lui Ma Non è mai stato modificato Quella prima volta che lo vedo diverso E quindi che dire Per il momento Direi di fare una cosa Direi di fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa Ne pensate Fatemi sapere Se vorreste vedere Altre mod di Granny 3 Da esplorare insieme Che lo faccio molto molto volentieri Spero che questo video Ti sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate C'è di iscrivervi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona notte Ciao a tutti Buon panino a tutti Buona giornata Buona giornata